Lei ha detto che il 3 gennaio si recupereranno i concerti saltati per la notte d'arte. Sì, la notte d'arte si è tenuta, ma si è tenuta munca, per un fatto grave che è accaduto, su cui è in corso anche una serie di verifiche che stiamo mettendo in atto, perché non devono accadere quelle cose. Possono essere anche fatti coincidenze di vario tipo, un cortocircuito, però non devono accadere. Su quello c'è un mio attenzione particolare, perché ci sentiamo tutti danneggiati per quello che è accaduto, ma siamo in grado di recuperarlo ancora meglio di prima. Il programma il 3 gennaio sarà ancora più ricco, quindi immediato. Non usciamo fuori dal periodo natalizio, quindi anzi siamo in pieno momento, anche giorni che possono essere un po' spenti tra Capodanno e l'Epifania. Ci mettiamo questa iniziativa molto forte con cui stiamo lavorando, in questo caso insieme, non solo la Municipalità, ma anche il Comune di Napoli, Palazzo San Giacomo. Non è un po' spiegato che cosa è successo? No, questo ne parleremo dopo perché stiamo verificando che cosa è accaduto. E invece come funzionerà un po' la sicurezza la notte di Capodanno in piazza, come prevedete? La sicurezza come sempre, c'è sempre il coinvolgimento del Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica, perché è un evento che va su dimensioni straordinarie, è molto imponente, è molto grosso. Poi non ci dimentichiamo mai che negli ultimi mesi, dopo le vicende di Torino, negli ultimi anni, la normativa è diventata pesantissima. Non vi dico in questi giorni per poter organizzare queste prime due iniziative a piazza Garibaldi, è diventata una corso ostacoli organizzare un evento. Se nel nostro paese fare cultura diventa superare gli ostacoli come se fosse il Monte Bianco, sinceramente è brutto, non è una bella cosa, perché la sicurezza va garantita, però non deve essere poi un eccesso. Su questo per fortuna a Napoli riusciamo a lavorarci, poi chiariremo bene quello che è accaduto a dicembre per la Notte d'Arte l'altro giorno, perché quello è frutto anche di un coacervo impressionante di autorizzazioni che certe volte non hanno nulla a che vedere con la sicurezza. A Notte d'Arte non c'entra niente la sicurezza. Anzi, se vogliamo, era il caso di farlo proprio per tenere tutti quanti ben contenti e uniti in piazza. Su quello c'è una verifica mia personale e quando sarà il momento sapete che io ho l'abitudine di non tacere e di parlare. Quindi sarà fatta anche chiarezza fino in fondo se è stato solamente un misunderstanding, una serie di coincidenze, atti amministrativi complicati o se si poteva evitare alla città una figuraccia come quella là, perché secondo me si poteva evitare. Io rimango convinto che quella sera si poteva evitare quello che è accaduto e siccome sono il sindaco di Napoli sto facendo le verifiche adeguate per capire chi poteva evitare una cosa di questo tipo. E ovviamente se qualcuno ha sbagliato paga, sia ben chiaro.